La ricorrenza di Santa Barbara non deve essere considerata occasione in cui vengono elogiati i risultati conseguiti, ma deve rappresentare un importante momento di aggregazione e consenso e riflessioni per tutti gli appartenenti al comando di Ragusa, così da una nota del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dove si parla dei compiti istituzionali e si può affermare che sono stati raggiunti risultati più che soddisfacenti, nell'assicurare ad esempio il servizio di soccorso e prevenzione degli incendi su tutto il territorio della provincia. Eseguiti anche complessivamente all'inizio dell'anno 5.400 interventi di soccorso urgente mirati cioè alla tutela della vita umana e alla salvaguardia di beni e ambienti da danno dai pericoli causati da incendi ad alta situazioni accidentali. Poi rispetto all'anno 2016 è registrato anche un incremento del 15% per quanto riguarda gli incendi di vegetazione, in genere dovuto ad alte temperature. È stato anche possibile espletare più interventi grazie alla disponibilità del personale che è stato trattenuto richiamati in servizio nei turni nei quali sono manifestate emergenze, ma anche grazie all'amministrazione comune di Ragusa che ha contribuito a sostenere l'onere finanziario per attivare il presidio stagionale a Marina di Ragusa. Inoltre il comando ha attivato una squadra aggiuntiva dislocata al distaccamento di Vittoria per attuare la convenzione stipulata, direzione regionale e dipartimento della protezione civile per concorrere in questo caso alla campagna di contrasto agli incendi boschivi. È stata infine garantita la partecipazione dei funzionari alle attività dei centri operativi provinciali presso la sala operativa del Corpo Forestale Provinciale.